dai lo stunnato con la stun grande c'è ancora qualcuno qua però ragazzi dove cazzo siete siete scesi eh c'era ancora gente su porca troia dai io guardo sopra non voglio compenetrarmi con nessuno eh non mi piace aspetta faccio andare il robottino se qualcuno mi copre se vieni qua stai un attimo è sotto le scale ma mi sa che qua sotto ragazzi qui sotto non c'è nessuno ega non andare a minchia però eccoli qua ce ne due qua sono tutti qua tutti qua ne manca però uno cazzarola perché sono cinque qui qui non 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 grande cerchiamo di coprire questa qua che è appesa come un salame a quella mamma mia c'è qui guarda giù cazzo sto sparando uno dei miei sotto c'è quello con la bomba occhio non scendere ah no io sono andato col drone scuola 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 fuoco ti vedi tu ma non ti vedo porca proia io vado appena di sotto ma sotto sotto ma dove ci sono i server? ho ucciso quella della bomba io sono col drone sotto di te eccomi qua la donna mi senti a casa chi mi uccide? ci manca uno mi senti a te anche è qui qui dove? dove sei? sopra c***o qua dentro è tutto buio non funziona mai c***o chi c'è? entri e appare la luce c***o c'è il tipo della bomba lo sento Elgan sta scendendo con il me grande gioppino incredibile aspetta aspetta sali su Elgan che vedo spy in ogni dove c***o butta una granata mh che figa è successo nooo ma da dietro dove siete? dove siete? io sono dove c'è l'atrio sotto con le scale a chiocciola grosse stavo a raggiungerti faccio che c'è gente qua c'è gente verso dove sono girato oh grazie ci stanno stendo su io copro qua ok ti è andato su? si si ok andiamo giù 3 hostels remaining 3 hostels remaining 3 hostels remaining madonna che riflessi minchia che azione qua ci prendono ma ah la grandis aspetta dietro di noi scusa 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 beh copri le spalle se muoio mi tiri su sei sparito dove c***o sei? sono sotto vedo perché sennò scusa giro di qua c***o 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 ma dove è? bomba e holo? ucciso 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 sono arrivato un po' tardi aspetta perché sento sennò sennò più la barricata mando il drone ma poi guarda che ci passa sotto ah ok allora guardami il c***o gli scago oh porco diia e dove è il tuo c***o avanti stai guardando il mio di nuovo prova ad andare su qua non c'è nessuno mi sembra sparare le palle ma come è messo? sta dormendo mi guarda che così guarda il tuo lo sto scuola ma ti pare che quelli che fai le palle guarda un barbone ti prendo in qua guardalo fai una foto e devi fare le palle ok una è qua una è qua vado al piano di sopra vieni no no un'altra è qua tiragli per favore ok andiamo su sei salito dalle scale principali no eh si si mi dice no l'altro dove hai fatto il fuo è mai geloso aspetta sono io ho tirato la stun aspetta sono lì dentro fai una brezza qua aggiriamoli aggiriamoli infatti che io sento il c4 due minuti che palle hai giù no andiamo giù 3 hostels remaining sono sono sopra si si ma sono qui ma dove sei tu eh non vedevo più nessuno stavo andando via nooo nooo ce n'è ancora uno eccolo dai è lì è lì meanda uh no 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 ah qualcuno me lo uccida egan uccidimelo uccidimelo guardami guardami sta arrivando corri vai ti copro qualunque cosa tu voglia fare fa schifo sto gioco fa veramente schifo sono in 18 aspetta e arrivo perché c'era un po' di gente che schifo che schifo tu vivrai ti ho detto io ho tirato una martellata al coso e si è si è spaccata dopo tipo 6 secondi e quando si è spaccata non me l'aspettavo e c'era il tipo fa sparare sei sempre in mezzo alle palle eeeh io e la mia solita mira di merda non so perché sono morto non so perché sono morto non so perché sono morto qui ce n'è ancora lo so nooo 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 Lo sento Lo sento ma non capisco dov'è Stardi figli di puttana Ma ma porco Ma porca troia Mi sa che a sinistra Ma comunque sta arrivando Scappa 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 Guarda che ce l'hai in culo Non lo sento più Arriva 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 Ahahahahahahahahahahaha Grazie 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 Grazie